Il collegio di garanzia del CONI ha dichiarato inammissibile il ricorso del Brescia dopo la mancata ammissione alla Serie B. Non cambia molto, il Brescia non si attendeva certo a una vittoria in questa sede, ma ha continuato su questa strada per strategia. Venerdì 30 giugno, termine ultimo entro il quale arriverà il parere della Covisoc. Come finirà la vicenda della possibile riammissione in B del Perugia? L'interrogativo in attesa appunto che la Covisoc esprime il suo parere sulle domande di iscrizione alla B, che poi verrà recepito il 7 luglio per il verdetto del Consiglio federale. Di sicuro su questo non si può transigere e dovranno contare i fatti, cioè lo stato delle cose, al momento della consegna della documentazione entro il termine perentorio che era fissato per il 20 giugno. Un organo di vigilanza federale, come la Covisoc, alle regole si deve attenere. È necessario ribadirlo alla luce della piega emotiva che sta prendendo la vicenda a livello nazionale, con le dichiarazioni del presidente di Lega Bisbi lanciate a favore di un'iscrizione dell'ECCO, che al 20 ha prodotto documentazione incompleta relativa allo stadio di Padova. Chiaro che il Perugia, patrocinato nella vicenda dall'avvocato Grassani e secondo avente diritto alla riammissione dopo il Brescia, deve sperare in due esclusioni, non solo una, quella eventuale dell'ECCO, ma anche quella della regina. Il caso regina, sviscerato ormai in ogni aspetto, si basa sulla battaglia tra ordinamento sportivo e ordinario, e anche qui si andrà a finire dopo i ricorsi. Tempi lunghi che preoccupano, considerando come il Perugia sia di fatto paralizzato, senza di essere allenatore e senza conoscere la categoria, ma dopo il 30 comunque la società prenderà una piega. Eppure è proprio dal format che il Perugia potrebbe avere un aiuto insperato, quello omologato della B a 22 da 5 anni a questa parte e sempre a 20 in deroga. Se il 30 il parere della Covizoc dovesse portare, come sembra, l'ammissione dell'ECCO all'esclusione della regina a favore del Brescia, il Perugia farebbe immediato ricorso, costringendo il 7 luglio il Consiglio federale a riaprire la pratica di riammissione da definire dopo il verdetto del Tar del Lazio e eventualmente del Consiglio di Stato.